Io ho visto un Montevarchi che non posso dire niente dei ragazzi in primo tempo, posso dire che è normale che poi ci può restare di sbagliare il gol, diciamo a dispiace per quello che hanno fatto i ragazzi in campo, ma i tiri in portata del Livorno sono stati due e mezzo e abbiamo preso due gol. Quindi se noi abbiamo tirato poco, perché anche noi abbiamo tirato poco, ma anche loro non hanno tirato, però la partita è due a zero. Da un punto di vista di personalità in campo, da un punto di vista di atteggiamento, c'è poco da dire ragazzi. Ho visto forse una delle migliori prestazioni nel primo tempo contro il cospetto di una signora squadra, ma non è che non mi piace a me dire che ci poteva stare la sconfitta con Livorno, perché secondo me questi ragazzi hanno le possibilità per giocarsela un po' con tutti. È normale che la partita che più ci ha tagliato le gambe è quella di domenica scorsa, per il cammino che dovevamo fare e che dobbiamo fare. Quindi perdere una partita di domenica scorsa non bisogna parlarne più, però è normale che quella, allora sì, sono d'accordo con te, non ci deve stare con la sconfitta. Ma neanche quella di oggi, perché noi dobbiamo giocare ogni partita come abbiamo fatto oggi, con la personalità di oggi. Se avessimo giocato il primo tempo con la personalità di oggi può darsi che il risultato già al primo tempo era diverso.